salve gente bentornati a aes mac con il pt un pd pt non mai capito perchè il hai detto pg il cosiddetto allora oggi c'è ammetto i minimi scusa c'è a 64 euro e la pizzeria con co come la chiamiamo vt 64 pizzeria e dai pizzeria da b64 ok o vendicatore causa di la canzone qualcuno qualcuno aria acceso il mio iphone sopra perchè non è che il poliziano lo canso così è vero salvo è vero salvo di mezzo oddio e barone 4 soldati c'è l cosa succede spettato faccio un taglio che controllo quanti quanti mega bps vado no ma è tornato ragazzo pure o dubbio già stanno attacca la finisce dai non si può ma se vediamo di registrare questo ma che cambia il centro internet o ma non puoi caricare una partita così c'è veramente un'offesa pochettino va bene ho o sono sbagliato la storia di moto s'altra parte ferma lì esploso tutto o la nostra roba di miei subito lo dobbiamo bloccarli ma all'entrata dobbiamo metterci sono soldati all'entrata via soldati che cacchi cacchio ha premuto le torrette io ho premuto i gemini non le torrette gemini si ma è possibile che questi sono solamente antiaerei a quanto pari dai entrate ok oh dall'altra parte dall'altra parte ma che male se arrivo dall'altra parte all'altra parte pensaci tu esce oh vabbè mano mano qua si va bene con l'ospite non è che ciò così tanta potenza di energia con l'ospite con l'ospite perso la mappa incrementali tutto ripristino ok sto sparando in aree non mi so accorto con l'ospite con l'ospite grazie l'uomo quando si sente la voce se l'hai aggiornato si se lei se non l'hai aggiornato ma ogni volta che cambiano posto dove attaccano no non fa bene la storia è disposta l'unità per favore come c'è la tartone come la parto e' un muro ci diamo il logo no ma che cosa succede uccitelo tu mi sta a morire io no aspetta un attimo arrivo riaccomi questa è una parte piena di taglia quanto pare un video da un episodio oddio qui mancava non di là guardo save the base ah tartolini qui vai muore muore me va franco mi hanno ucciso prima loro mi hanno ucciso prima loro basta 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 con il quanto ci mette a ripararsi da io ok ok a un po' un gioco 1 tempo si manda un po' la gata non ora c'è di comunità dico non è il caso dilaggare allumettiamo ma mi sa che l'unità che hai messo la sottonanza va un po' un cazzo poi esso che aspettamo le vado a riprendere no un cacchio un cacchio non servono un cacchio perchè mostrano paventi levato io vedo sulla mappa la gente che gli scavalca i tuoi si è appunto si ma ma non vabbè resta fatto acqua ma sai che la berta non ho capito a che cacchio serve che la berta serve a qualcosa la bartender era da essere l'artiglia e l'antiaerea in teoria poi che non da bocca perché c'è non fa niente di cubo no ma non uccidete a tartone ok ok hai seguito l'energia lo sacci facciamo un po' tanti rachet qui è qui è qui è dai dai ok credine vieni va qua no non posso mettere qua cunti odio la gente allora quando arriveranno i goliath se ti dicessero che sono già qui se ti dicessero se ti dicessi che sono già qui se ti dicessi che se fai ammazza un po' di unità lo faccio io aspetta questo testo stanno qua no tu il grinder sta morì che era il grinder la trivella tua eh bobo qual è il problema meglio no 80 oh perfetto l'abbiamo non ci si sa oddio no aspetta ci mancano 4 ma lì mi sa che è un po' morto il grinder no 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 ancora là abu osponde dettagli fico il grinder non avevo mai visto ma io ho già metterlo l'asse da sotto no 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 c'è trivella poco un po' ci va di forza quanto danno fa un po' tanto però non colpisce gli airman penso solamente l'altrimenti dando manestanzio uno o due la cosa almeno quando arrivano i devastatori cazzo no ma più che altro quando arrivano i miei di devastatori li hai messi a fare e no perchè non ancora non sono abbastanza libero allora questo qui lo devo piazzare qua diciamo qua l'otto a livello 9 arrivano dai muori 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 o specchio verso ok le 4 e mezzo ma ne vogliono tante di un'altra posta no nessuno fammi vedere un po' come funziona il cartone dai presidormia così per fare che cosa per farsi uccidere e non fare per non fare attaccare da altre unità sostanzialmente oh oh muori pratica mi sei dicendo che non serva a niente oh vai devastatore nooo non c'è abbastanza spazio ok ok manda a morte qualche vita e come fa ciò non lo so trovo un po' ma perchè c'è un gringo ma acchio perchè non sarà testo nuovo in chiaccia i tanti guardi ok non morire ok va bene ma io finisco sempre l'energia per per cui iino spolpe siemo 87 su 90 dai io ci sono questo ok. 10 curano progressi 90 su 90 o è abbastanza silenziosa partita vai che se basta pensi ma io uno ne posso fare di devastatore uno solo come si faceva a distruggere che cosa adalutare perfetto che cosa si distrugge oh oddio oh mio dio aspetta noi uccidiamo i bruti no tu fai da altre parti facciamo una parte a coce appunto e quello è il problema no fermatevi stanno distruggendo le basi ho notato muori quanti sono infiniti oh non posso coprire dieci lati c dove saranno ammattà appunto non capisco da dove cacchio attaccano no oh oh man un gemini gigante un gemini supremo man aiuto un gemini supremo what devastatore vieni qua ai ce ne stanno altri spostati si sposta il devastatore oh il gemini il tartolo sta morendo faccio un altro e non si è no non sta non sta facendo niente il tartolo è inutile proprio come avevo predetto ci stanno altri che siamo oltre il limite ti rendi conto eh siamo oltre il limite dov'è servono 4 soldati subito io non li posso fare il levato l'opzione eccoli 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 tu copri qua eh no poi io copro qua oh no 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 tu tu muori tu muori chi è che chi cacchio ma donne bruti che si fermano qua morite non so chi ci sto distruggendo eh basta da dove attaccano si 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 non li vedo ecco poi fanno tanto male non è che ne fanno poco di male ne fanno tanto eccoli ho trovati dovrei aver risolto morite oddio oddio sono un po' troppo no 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 ma che sta a fare il mio grinder là ma qua sono finiti goliat 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 versus devastatore e spermo di qua se ne sta un altro madonna guarda stiamo circondati oh mi ammazzano da qui qua 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 ci ho fatto caso aspetta faccio altri devastatori oh bacia 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 ho messo in altro paio affari di devastatori qua 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 che se succede qua qui poco ah ci attacca la base muori no al tartolo proprio morto eh ma i miei goliath sono morti pure quelli no ne devo fare altri o fai 10 di devastatori e ho due ne posso fare di di devastatori mosto aspetta quanti ne fa sto riparando i tuoi goliath rimanenti perché scusa quanti ne sono rimasti uno sicuramente questo sta qua davanti non mi sa che è l'unico che è rimasto unico dei quattro ah no ecco lo so due ecco qua riparato ripariamo il patch ok aspetita oh 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 l'alcanza che senti non sto capi niente l'acqua top 4 4.2 non sto fa niente c'è solamente il computer collega c'è non lo so se lo vuoi prendere sto coso cacchio 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 muori 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 please muori please oh man oh e dai muori amore tutto morto tu ora tu e che se completiamo questa unitaria se c'è una barca di mons un il campo monico volia corretto dove mi aiuto tanto loro tanto ho giocchiappato cosa che ho oddio che succede messo cacchio esploso ho perso in un po' dio ho perso in devastatore ma non posso non non giovanna dove sta l'attacca coli giusto stiamo per perdere una torretta che torretta nuova la torre tra vicino al devastato tra poco perdiamo il devastato cacchio ma che era quella cacchio di esplosione potentissima di prima ma andiamoci per potenza posso me lo frego io eh c'è un po' 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 mori brutto o o o o che si attacca cazzo è non lo so ecco se no quittare non quittare so che vorresti farlo per abituire però non farlo basta da dove da dove non capisco già che abbiamo vita breve dobbiamo completare almeno questo dato aspetta sono tornato dobbiamo completare almeno stondato spegniamo la merca di telefono ci sta ragazzo che mi muoiono sosti coli atti coppia no 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 ho perso le quali possiamo solo combattere noi 2 devastatori di fila ah 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 4 devastatori di fila stiamo perdendo stiamo perdendo gli avamposti dolore mi sa che ne so 4 comunque infatti ci sono 4 di fila vabbè si con colpo mi fottono no fanculo morite no 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 m allora mi faccio quindi le dai 4 vasto di fila c'è stare a mano all'interno da 10 mi sa che ci compariva vittoria sopravvivenza continuo credi per il culo 138. cosa allora c'è cosa ci faccio non ho regalato un coso ma non capisco che l'uomo controllo posso guardare il video no aspetta con questo mi è arrivato oggetto consumabile raro allora direi che si abbiamo finito anche questo episodio di airmac quindi io vi saluto e ci rivediamo alla prossima parte salutiamo anche il super flavio anche se noi ci rivediamo tra un secondo tra un secondo si fare coso e boh non lo so comunque arrivederci gente arrivederci ancora ho chiuso il video ma fa niente ora chiudo ciao stigavo ciao